Abbiamo dati rassicuranti sul piano nazionale e regionale. Ad oggi non registriamo picchi di contagio per Covid. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, fa il consueto punto della situazione. Non sono ingolfate le terapie intensive. Dall'inizio dell'anno scolastico, aggiunge, non abbiamo registrato situazioni preoccupanti. Dovremo aspettare però le prossime settimane per avere un quadro di maggiore certezza. Il dato negativo invece, prosegue De Luca, è che in Italia si è quasi bloccata la campagna di vaccinazione. Neanche con le decisioni relative al Green Pass le cose stanno cambiando. Si fa fatica anche per la terza dose. Noi daremo un'accelerata per le residenze sanitarie per anziani. Non manca un monito del governatore ad aprire gli occhi. Mi prego di aprire la testa e gli occhi perché a furia di imbecillità e di irresponsabilità, a furia di prenderci lussi che non possiamo prenderci, noi rischiamo di far riemergere malattie che hanno rappresentato tragedie in mani per le nostre famiglie qualche decennio fa. Non qualche secolo fa, qualche decennio fa.